salve a tutti benvenuti in questa serie su anti disputed oggi non avremo nessun tempo da perdere oggi avanziamo senza staff perchè ah ok cambia 7 7 cambiamo i setting code e rinnova perché non mi fa rinnovare ha la fama minima per rinnovare allora per forza 3 e rinnova va bene e rinnoviamo ok per giacopatura 3 incontri per questo qua e ancora va bene rinnoviamo ok va bene va bene va bene e allora e allora siamo avanti vediamo un po' che cosa troviamo però ok ci sono già incontri negoziabili io spero che ci siano dei non sei in buona forma tanto lo sai che allora però poi tutti mi fanno difendere così o se è l'una 58 o se è l'una vabbè o se è l'una dai o se è l'una io direi negoziazione facciamole fare la clausola del nuovo incontro e diamo prova negoziazione avanti non mi interessa solamente che non mi facciano fare non mi non mi obbligano a fare un altro incontro comunque o se è l'una andiamo o se è l'una ora spari confensivo ma spari confensivo dai poi spari confensivo poi spari confensivo recupero e farei elemento spari confensivo ah facciamo questo ok facciamo questo ok la clausola del nuovo incontro ok facciamo questo ok la cosa mediatica e cosa abbiamo 50 recupero ok poi spari confensivo poi spari confensivo e poi recupero Perfetti in tutto e per tutto Non abbiamo bisogno di determinate cose Le cinture contestate Allora, quello IBF e quello Steel City Gli altri due titoli non se li calcola più nessuno Va bene, allora combattiamo Avanti Caro José Luna Abbiamo... L'avversario, anche questo, è nettamente Nettamente sotto di noi Nettamente sotto, diciamo, noi come overhaul Quella scorsa puntata Mi aveva un attimo sorpreso perché era stato Aveva iniziato veramente in maniera molto aggressiva Mi aveva sorpreso Ok Mi aspettavo, ci ho buttato giù, ok Però anche questo Si sta facendo molto Si sta facendo anche questo molto Oh, calma Ok No, 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 no Non esagerare Non esagerare Ma Con il corpo Ok Un po' colpo al corpo Lui Non si iscrive Ok Ok Allora Oh, bene Oh Ok Calma Calma Ok Con il volto Va bene Ok Benissimo Ok Un po' colpo Ok Benissimo Un po' colpo Va bene Calma 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 Lui tanto Ok Ok Vabbè Il primo round Ok Maggior numero di pugni Ok Alla grandissima Ok Sembra il ventino Sare il diretto Vabbè Ok Va bene Comunque Vabbè Solite Solite cose Stavolta Abbiamo anche vantaggio Proprio dei punti Abbiamo fatto bruciare Abbiamo fatto bruciare Un po' di Stamina C'è anche vantaggio Quindi perché Stavolta Dovrebbe essere Tranquillamente Nostro Calma Ok No Calma Ok Ehi Attenzione Però Già in difficoltà Devo stare Luna Già in difficoltà Adesso E però Però scappa Calma 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 Ok 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 Calma Ok Ok E giù Va giù Se l'una Va giù Se l'una Cominciamo Aterramenti Già al secondo round Ora Me li sto facendo Voglio evitare di affrontare Sempre questi Ma li sto facendo In modo tale che Ce li leviamo in mezzo Alla speranza che Si levano in mezzo Allora Cominciano ad arrivare Nuovi avversari Perché sennò Comincia a diventare Problematica la cosa Intanto Comincia il conteggio Al 5 Si rialza Se l'una Ecco Ecco Devo dire Gli avversari Sono fatti Decisamente Più Coriace Intanto l'una Ancora già In crisi Ok Ora E ok Ok E di nuovo Atterrato di nuovo Atterrato di nuovo Quel punto Era in crisi Messa all'angolo Spalla Le corde Non aveva dove andare Ok Comincia il conteggio Siamo a 6 7 Si rialza Direi Doppio conteggio Penso è finito il round Se non mi sbaglio Mi sembra aver sentito Il gong Infatti Durante il conteggio Mi sembrava aver sentito Il gong Ok 97 Siamo Siamo in controllo Siamo serenamente in controllo Questo sarà un 10 10 7 Questi due atterramenti Attenzione 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 Un attimo Ok 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 Qua si rischia di più Ora Ti rischia di più Nella versione Si è fatto molto più aggressivo Luna Ho fatto molto più aggressivo Luna Ok Ok Ora Corpo difente È ancora in crisi È di nuovo in crisi È di nuovo giù Di nuovo giù Luna Di nuovo giù l'u Altro atterramento Altro atterramento Stavolta ne critico un colpo al corpo Perché siamo lavorati così tanto che Alla fine ha fatto Sta facendo particolare effetto Conteggio arriva al 7 8, 9 Fine Dura 3 round Il tentativo titolato di Oseluna Dura 3 round E il nostro Limor Taichi Ancora una volta campione Ok io direi la sequenza L'abbiamo anche già vista La solita sequenza Con il solito Il solito Sheikko Arabo X Che porta la cintura Ripeto sempre meglio di quello C'era nell'early access Che non c'era completamente Non c'era neanche Come posso dire Non c'era neanche quella sequenza lì Con la cintura Del reax Almeno qua c'è Dai ok Ora Io direi qua Un altro match facciamolo Senza staff Non rinnova Ok Rinnoviamo E andiamo Andiamo signori Vai Ok Oggi due match Perché il primo insomma È stato qualche stato Io voglio sparare Che non ci sia di nuovo Oseluna Non sono in monofobia Minchia È ancora là Oseluna È di nuovo lì È di nuovo lì Oseluna Basta Basta Mi manca Carlol Mi manca Carlol Dei tre A sto punto To A sto punto Andiamo col Closono incontro No Attive mediatiche No Va benissimo così Va bene Va benone così Va benone così Però se mi fai andare avanti Grazie Va benone così Allenamento Andiamo subito A calendare Allora Io direi Allenamento Andiamo su Rigenerazione di energia Magno Uuuu Questo Questo Dobbiamo fare Rigenerazione di energia Questo Quanto leva Questo allenamento Quanto leva 20 Va bene Allora Vai E Vai Infortunio lieve Error Recupero Porco Possete fare un altro Attento Va bene Niente Va bene Allora Allenamento Mi piace Ho recupero Ok Allenamento Manichino Aspetta Mi faccio Ma Aspetta Mi faccio Male Con Manichino Scusa Un attimo Allora Scusa Un attimo Però Carriera Infortunio Y Per andare Ok Infortuni Dai Mono Recuperiamo Oh Perfetto A posto Così Quindi Calendare L'allenamento Torniamo Torniamo a noi Ora Quindi L'Ul De 10 Deve essere Un recupero Quindi Facciamo Questo Recupero Poi Facciamo Allenamento Altri due Il manichino Il manichino Santo Va bene Va Oh Qua l'abbiamo ripresa Perfetto Quindi Torniamo a noi Dicevamo Tanto Sempre Il manichino E qua No Recupera E qua Recuperiamo Oh Perfetto Buona preparazione Peso ideale Siamo 100% Nel vigore Siamo pronti Signori Siamo pronti Per affrontare Per affrontare Carl Hall Gallese Si nota Guardate È chiaramente Gallese Lo vedete Che è chiaramente Gallese Proprio c'è C'è Proprio Originario di Cardiff Lo si vede Proprio Lo si vede Chiaramente Che è proprio Proprio Originario di Cardiff Lui Carl Hall Proprio Vabbè Ok Calma Calma Sembra lui Più attendista Ma fino a un certo punto Comunque qualcosa fa Calma Calma Ok Ok Calma Con la calma No Calma Ok Che sa Lui è molto più attendista Che sa lui è molto più attendista Guarda il corpo Guarda il corpo di nuovo Lui qualche colpo va a vuoto Guarda il corpo Ok 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 Calma 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 Ma lui ce l'ho da lavorarci un po' di più Ce l'ho da lavorarci un po' di più Devo farci un po' più attenzione Anche perché lui Non sta passivo Lui attacca Ma Fa con criterio Comunque la difesa La guardia la tiene Calma No Sto spacciando troppo anch'io Oh Me la vuoi dare la guardia quella col braccio giù Oh Perfetto Calma Con la calma Bene Ok Va bene Ok Ottimo round Abbiamo messo più pugni Me la segno più pugni noi Siamo A posto 99% di salute 98% di Di stamina Di energia Siamo a posto Siamo messi bene Siamo messi bene Comunque ho consumato di più Ok Ok No 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 Calma Ok Porca Ok 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 Che calma Ok Ok Sta andando un po' a vuoto adesso Vado Come capite Lavoro al corpo per Per schiancarlo Con lui ce l'ho Che comunque fa un lavoro sulla lunga distanza Ok Calma Ma Ok Ok Calma Calma Ok Ok Calma Calma Al corpo Ok Ok Un po' di colpi al corpo Giusto per Non so un po' per schiancarlo Cioè Colpi al corpo Diciamo Servono per Diciamo Un po' di fiato Di respirazione Diciamo il lavoro Ok Inizio eccezionale Stiamo mettendo Ok Maggiano buoni pugni Stiamo facendo effetto Ok Ok Allora Devo dire Però Il vantaggio è semplice A livello di stamina Ok Ok No 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 Sto spaccionando troppo Calma Ok Buona combinazione No 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 Troppo 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 Sto bracciando troppo Questo Questo non posso Non Non devo contare Di finirlo in fretta Perché comunque Lui la guardia La tiene Ok No no Qui Ok Sto spaccionando Ok Calma Sto spaccionando troppo Anch'io Sto andando troppo A vuoto Sto andando troppo A vuoto Mi sta piacendo la cosa No porca Sto andando troppo a vuoto Sto andando troppo a vuoto Guarda 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 il corpo Oh Questa l'ha Questi l'ha sentito Questa al volto l'ha sentito Questa la testa l'ha sentito Uuuu Che Però questa l'ho sentito L'abbiamo sentito noi Questa l'ha sentito Nostro Ok Hai fitto danni decenti Inizio l'incontro Continua così Tanta testa Ho consumato un po' L'istamina Sono uscito sotto il 90% Ok Abbiamo fatto i primi tre round Ma immaginavo Me ne immaginavo Me ne immaginavo il terzo round A favore suo Sono andato tanto a vuoto Sono andato tanto a vuoto Che è ancora il corpo Oh no no Calma Ma smettila Valerio Minchia sto sbagliando Sto sbagliando troppo Ah Ok Ma Ok 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 Buona il corpo Fa un po' più aggressivo lui Ok Non mi fa i ganci Ok 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 calmazione calmo stai parchando drop ok sto sbracciando un sacco questi che iniziamo a farti l'intenzione stiamo a mettere l'incontro stanno andando bene temo che questo round sia suo temo che il quarto round sia suo e dai ripara ok calma 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 ok torca miseria non mi ha niente a segno niente non mi ha niente a segno ok ok calma 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 eh va bene ma com'è tarantolato tarantolato calma 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 oh niente non ci va non non va a segno facciamo faticarsi ma ancora un po' di energia eh ma noi pure noi pure calma quanto serato ma sei in vantaggio e non lo so non lo so calma 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 no oh dai che è in crisi dai che è in crisi è giù è giù giù è andato giù è andato giù va bene va bene va bene ok ok dai oh è ancora in crisi è ancora in crisi eh ma la si è ripresa ma possiamo approfittarne è il momento oh hm eh stamina ok calma ok dai che ci siamo porca no siamo in crisi dai gli stipugni giù ok ok scusate ho premuto per sbaglio scusate primo conteggio 8 9 fine ah ho avuto stavolta ho avuto paura stavolta ho avuto paura guardate guardate il gallese guardate il gallese mi ha messo paura mi ha messo paura ho avuto quei due round quarto quarto e quinto ho avuto io non ho visto neanche i punteggi ho avuto quei due round quarto e quinto mi sono sentito scivolare l'incontro alle mani devo essere sincero devo essere sincero ho avuto paura ho avuto molta paura l'ho sottovalutato colpa mia l'ho sottovalutato però alla fine ce l'abbiamo fatta fate questi due match siamo quasi a mezz'ora di registrazione qualcosa forse taglierò vediamo detto questo grazie a tutti quanti voi alla prossima grazie a tutti